Non è messa benissimo, eh? Non è messa benissimo. Guarda! Insomma, è battuta in questa villa abbandonata. Eh sì, questa l'abbiamo trovata per caso. È molto bella, affascinante. Non è messa bene. Ma noi proveremo ad entrare. Ci proviamo, insomma. Cosa dici? Che? Assolutamente. È aperta, è apertissima. Più aperta di così. Questa è la prima parte, dovrebbe essercene una seconda, forse le stalle, le scuderie. Guarda che bella forma che ha quella specie di... cos'è? Una cuspide? Mi ricorda qualcosa. Quelle pille ce le abbiamo? Gli zai? Niente. Abbiamo un cavolo, la tua macchina. Io ce l'ho. Vabbè, dai, mi fai la luce tu. Permesso. Ci vuoi qualcuno? Direi di no. Come sono i soffitti? Di legno. Di legno. Guarda questo, sai che cos'è questo? Per gli stivali? È una spazza stivali. Sì, fantastico. Ma è una simulazione, dai. Ci sarà il ragno lì. Eh, infatti. Ma dai, prendilo. È una paura. È bellissima, sta cosa qua. Ah, ti metti così? Ci si posiziona così. Sì. Faccio così perché è un po' delicato. Lo si va, lo appoggiai qua e ti ravi. Ah, sì, sì. Anche quelle soppe ginastiche. Va bene tutto. In realtà. Lo rimettiamo dove l'abbiamo trovato. Esatto. Bello. E qui cosa c'è? Cosa è rimasto qui? Una cartolina d'epoca? Guarda che c'è anche la filanda in mano, una sorta di... cos'è? Non lo so. Ah, è la lana delle pecore. Ah. Un frigo? Sì, è un vecchio freezer. Guarda che bella stampolla. C'è qualcosa dentro. E questi cassetti qui? Sono chiusi. Guarda che bella. Questa porta. Oh, santo cielo. Oh, è enorme. No, però questo qua è... si finisce qua, secondo me. Cioè, come siamo provati bene. Un vecchio sedile d'auto? Come farei sapere che è di un'auto? Boh. Una Fiat Tipo. Un trattore. E questa bellissima sedia. Guarda che bella il caminetto. Ma io prenderei l'altra fila. Entro io. Entri prima di me. Vabbè, intanto vediamo i soffitti. Vedrai che sono buoni. Questi sono, vieni a vedere, spinazze, spinazze. Una sorta di... Madomigiane. Guarda. Satelli e spinazze. Contenitori. Si guarda, vedi? Una sorta di serbatoio per il vino. Sì, certo. Ma hai visto così? Ma cosa sono di cemento? Eh, sembra cemento. Ma questo? Secondo me questo era un portasella. Un portasella? Sì. Eh, vabbè. Posti di vino buono qua. Guarda, un alveare che è qui. Anche qui. Adesso ho un'occhiata qua, ma penso che c'è tanto delle rome. Oddio. In verità c'è una porticcina qua, eh. Mamma mia, quante ragni a tele. Sto in faccia, me sto beccando. Uh, guarda che moto è gigante. La vedi? Enorme. È veramente grande. Cioè, ovvio si va di qua invece, eh. È un'altra zona. È tutta una cantina? Mamma mia, quante ragni a tele mi sto beccando in faccia. Eh, via dai. Ma troppe, io non so se entro. Ma dai, ti faccio stare io e tu mi segui? No, non credo. Guarda qualche roba. E là ci sono come delle ruote, eh. Guarda quante damigiane. Sì, che strano, eh. Per ruota, non so, oppure cose per trabbiare. Guarda quante ragni a tele qua. Guarda. No, ma non si può fare. Io me ne vado. Magari c'erano i tesori. Non importa. È qua. Che cosa c'è qua? È bellissimo. Scarte, guarda. Scarte? Ma sì. Guarda. Ma quanti abbiamo se scarte? Ma guarda lì. Guarda lì. Barattoli. Ma guarda qui. Guarda che barattolo. Tipo i vecchi barattoli del caffè. È vecchissimo. Che vecchio. Questa ruota qua. Guarda che. È vecchissima, eh. È una ruota. Boh. Un motorino. E quella roba lì che cos'è? Boh. Non so. Sembra delle piccole mensoline. O forse delle matrizze piccole che queste. Guarda la quantità dei ragnatelli che sono qua. L'ho mai vista. Ma sì. È pauroso. Cioè anche qua un barattolo. Guarda. Un'altra scarpa. Un'altra scarpa. Un'altra scarpa. Ma questa lo fa qua. Io con quello che era di là, sai. Lo mettiamo assieme? Sì. Perché qua c'è anche una... Oddio. Cos'è questo posto qua? Un ripostiglio. Un ripostiglio. No. Uh, si può andare su qua. Oh sì. Lo prendiamo su di qua. Ah, siamo già andati. Di là. All'inizio. Mi pare che abbiamo saltato quella stanza. Oh, guarda. La cucina. Ma dai. Eh. Cioè, notate la quantità di ragnatelli che ci sono qua. Ma sono tutte su soffitto dai. Ma no. Ma guarda che bella cucina. Vieni. Questo è il calendario 2003. Il divano. La cucina economica. Questo bellissimo lampadario. Ok. Proviamo ad andare su. Dai, proviamoci un attimo. Ci proviamo. Oh, guarda qua. Hai visto? Cioè... Mamma mia. Non so come fa stare su sta roba qui. Che crepe. Buono, le scale sono di qua. Dai, andiamo a vedere. Poi se è fattibile. Poi... Proviamo, dai. Facciamo uno giù, uno su. Sì, io vado. Allora, queste qua sono di legno, però. Mi sembrano buone. Se avrei piano, senza schiacciare troppo. Oh, che bella sta roba. Sì, molto bella. Ma intanto... Non ho messo tutte le legnatele come al solito. Guarda che buchi nei gradini. Traballante. No. No. Ma davvero raramente ho avuto paura. Però oggi ho paura. Guarda che bella. Dice che viene questa finestra. Guarda. Guarda qua. Oddio. No. Cioè, questa... Sta su, veramente. Facciati quell'altro. No, ma guarda qua. Che bella bici. Ma dai. No, guarda. Saranno vecchissime. Cioè, ci sono rimasti solo i telari allogginitti. Guarda. Adesso siamo veloci qua sotto. Guarda. Ma dai. Sono fantastici. Veramente bello qui. Delle gomme. Si sono riuscite sotto sopra. E queste erano delle testerie del letto? Ah sì. Ci sono anche le reti. Le reti per letto? Le reti? Sì, sì. Sono di le reti. Adesso lo ha. Questo non lo trovo. È bellissimo. Invece... Ma guarda che belli questi qua. Guarda che belli scherzi. Sono... Sono di legno, eh? Sì. Sono di legno. Ah sì. Sì. Questi sono di legno. E anche i reggi bassani per le tende. Sì, per le tende. Qual è la frase che non manca mai? E non le nostre asperazioni. A parte assolutamente no. Eh, a parte assolutamente no. Tarmigiana ovunque. Tarmigiana su Tarmigiana. Ma sì, è pieno. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Vediamo, brindiamo. Ah, una sorta di fienile. Ma il Regno dei Colombi questo. È un fienile, penso. Questa è la stanza... Non lo so. È una stanza piena di paglie. Strana. Cioè, è pieno. Non ho idea. La candela e la tendevano qua ad asciugare. Quando vi serviva. Per dare mangiare i porchi. I porchi quel fieno. Ma si dice i maiali. Ma ora questa è la crepa qua. Cioè... Cioè... Se si apre in due è ancora un po' là. Mamma mia. Si apre 3, 2, 1. È qua. Guarda che roba. Non siamo tantissimo qua. Il buco è di una stufa. È una stufa, sì. Ah, sì. Si scaricava fuori qualche modo. Guarda come sono entrate le vegetazioni. Ah, era chiusa quella. Si, richiede la porta. Si, richiede la porta. Si, si richiede. Questo dov'è? Un... Cosa è questo qua? Un solo di... Per sbattere le uova. Una frusta, sì. Il frustino per fare il frullatore. Allora. Quella può sbattere le uova. Ma pensa. Guarda. Cosa è il papà di Michelle Apolinta. Grandi frittate. Secondo me, se io appoggio la torcia qua su questa della tela sta su. Cioè, era veramente. Guarda che specie che è. E qui? Cosa c'è? Poi metto il buo a soffitto anche. Una sorta di deposito di tutte le porte, gli infissi. Cioè, guarda che porte che avevano. Enormi. Non ci vedi. Porta e portoni. Se sei da un milico. Che c'è da un legno. Tutto in legno. E' un divano? E' un divano? E' un divano? E' un divano? Non c'è messo così in piedi? No, si è vero. Dai, apri quelle. Ok. Attenzione. Non so se sono troppo sotto la porta che anche questa qua, eh. Sono super miracoli. Guardiamo. Però guarda che bella questa azzura stanza. E' una stanza guarda. E' bellissima. C'è una luce fantastica. Guarda che bella questa finestra appoggiata così, eh. E' bellissima con questa luce. Sì, davvero. Anche le finestre sono super miracoli, eh. Davvero. Faccio un trattativo per vedere cosa c'è sopra. Che dici? Coraggioso. Ma guarda. Intanto vado piano. Vado a vedere cosa c'è. Allora qua, apprendevano i sarami con su. Si vede? Ma poi c'è le faltazioni. O per i pappagalli. Anche. Anche qua. Crepe su crepe. Qua c'è una sorta di... Bravo. Stai attento. Qua è questo passamano fatto con un tronco. Questi gradini sono super miracoli. Oddio, ma via via. Un nido di calabroni. Pieno di calabroni. Pieno, eh. Pieno. Via 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 via. Sì, sì, sì. Via via via. Cioè, è un nido gigante, eh. Cioè, non so se sono riuscito a prenderlo. Fa pieno di calabroni, eh. No. No, ci conviene ad andare giù, eh. Cioè, iniziamo a muoversi, eh. Non so se li hanno visto. Via via via. Via via. Ho visto il calabroni. No. Però l'unico nido, rispetto agli altri, che era pieno di calabroni. Voglio uscire. Guarda questo cotatore, guarda. Mamma mia. Guarda una foto. Cioè, pieno di regnatele. A voi qua. Ho visto la croce. No, ma secondo me era... Qualcosa che fermava la... Ah, sì. Cioè, sembra una croce. È messa così. Che strano, no? Impressionante, buono. Sai che quella stanza blu di sopra mi ha mosso qualcosa internamente? No, K2. Proviamo. Ah, no, ma ci sono i calabroni. Però mi ha mosso veramente qualcosa. Sì. Sì. Non è abbastanza blu o quella? Ero belle. Guarda. Ero alla metà che puoi il davantiare blu, vedi? Sì. Tutte due finestre. Mi ha mosso. Tutte due finestre. Non è abbastanza blu o quella? Mi ha mosso delle cose. Ma dai? Sì. Guarda qua, la stanza blu, guarda. Stalla... Stalla per i cavalli. Sì, la stanza blu. Anche questa. Sì. Nota, non so perché nota. Ok, non c'è niente di che. Comunque, sì, sì. Sì, io... Io non c'entrierei a prescindere solo per le vagnatele. Guarda quante tamigiane che ci sono qua. Ma ancora? Depositi da tamigiane. Oh, l'ordobimbo ho provato. Ma va? Ti giuro? Vabbè. L'ordobimbo. Se si vede l'ordobimbo. Eccola. L'ordobimbo. Beh. Cagliatele. Dobbiamo pulire la macchina fotografica prima di agliatele. Oh, è lucchettato? Non ci credo. Ma va? Ma non è possibile. I tesori qua dentro. Altra stanza blu. Ti pensiamo a tutte le stanze blu. Un compressore qua. Ah, ecco perché l'hanno chiesto per quello. Aveva un compressore da 50 anni. Ah, ok. Ma se lo sono dimenticato. Guarda l'olio di cui ho ricoperto il catrano. Così, è bello anche l'entrare là dentro. Vediamo cosa c'è all'interno. Steilermann esce. Riesce ad entrare oggi. Un letto? C'è quello che rimane di un letto. Ehm... Vuoi... Vuoi provare il mire? Ci sono la torretta. Ci sono la torretta. Mettila giù. Oh, ma magari mi passa questa. Dai. Due ce ne ho. No, ma mi cascano. Oh, cazzo. Oh, vabbè. Non c'è più. C'era. Eeeh... No, vuoi due. Non ce la faccio. Due. Piccola. E adesso chi mi tiro giù di qua? No, ma... No, ma ecco c'è il tino. No, i cicce. I cicce. I cicce. I cicce lì, quel culetto. Bravo. I cicce. Ah, sono 20 centimetri. Sì, sì, sì. Si parte da solo anche questo. Dai, si parte da solo anche questo. Ok. Uhuh. Quella lì. Che cosa è questa cosa qui? Oh minchia, un letto? Oddio che c'era un letto. Cioè, ma fiega di armi. No. Cosa? Mi sembrava che fosse la penna sul letto d'aragnazele. Invece no. È sul letto d'un gancio. Cioè, in realtà veramente assomiglia, eh? A questa cosa. Questo letto qui? Lasciato così? Eh. Un letto, eh? Impressionante. Un letto in ferro. Un ferro. Guarda i lucchetti che ci sono su questa casa. Sì, ho visto. Sono lì, così. Sì. Io sto qua sotto che c'era il ragno. Il ragno porta guadagno, ricordate. E allora. A parte l'aragnantele non so dove ci possa essere. Ah, un... Un coso? Come si chiama? Scuola Pasqua? Quella... Quella roba delle fetture. Sì, ci sono un sacco di cose che usano i contadini. Proprio così. Lasciate... Lasciate qua. Questi qui. Ah, sono i cordoni dei figli o camionetti che appennano dall'alto che sono ricoperti completamente di ragno. Sì, li ho visti. Guarda questa. Sì, sì, ma qua c'ha i ragni che hanno fatto dei lavoretti notevoli. Pazzesco. Da no. Oh, mi sembra che l'ho presa anch'io la ragnotella, ma perché? Ma anche così inizia la tua fobia. Ma quando? Ma cos'era questo qua? Cos'era questo strumento qua? Vedi? Oh, santo cielo. È come un bastone per appiattire la terra. Non ho mai visto. Veramente non lo so. Dobbiamo andare su? Sì. È un sottotetto con... Non c'è niente. Solo piccioni? C'è un... Un vecchio, penso che è l'alto. Non so se è una cosa per i bambini questo tipo... Mamma mia, spero che mi tolgo di qua. Così è piccione, che cavo che ho preso. No, non c'è niente, sai. Ok. È una sorta di, penso, un fasciatoio, sembra. Mi sembra un fasciatoio questo. Cosa? Come riuscirai a riuscire fuori dall'altra parte. Qui? Eh. Casse, casse. Però che belle che sono queste casse messe così, eh. Cioè, mi piacciono tantissimo. Ma c'è ancora vino dentro quelle bottiglie? Sì, ma se fate si sente l'odore. Cioè, senti la dadirino. Non ci posso credere. Sì, sì. Ma io sai che sono un nasino. Un'altra scopa di strega, come hai visto? Non è quella della strega. Te la faccio vedere quando la trovo, quella della strega. Cioè, ma quanti anni saranno queste? Tanti. Per avere tutte queste... Tanti. Dico qua, guarda queste bottiglie qui. Sì. Cioè, è pazzesco. Un goccetto. Un goccetto. Un goccetto. Cin cin. Sai che cos'era? Un bel rosso? Si vede che c'è dentro il liquido. Guarda quanto cosa hanno messo lì sull'acqua. Questa qua che è aperta. Sì, sì. Ed è aperta qua. Eh, ma io sento l'odore ancora. No, no, ma io lo sento. No, non ci vado vicino con il naso. Hai visto che belle le piastrelle? Mattonelle di... Mattonelle di cotto. Anche qua è tutto azzurro. Hai visto? Stimuli azzurro. Anche qua è tutto azzurro. Siamo fuori. E i ragni non mi hanno avuta. Non è che amè, sono un po' di regna pelle. È stata bellissima. È la città che c'era quella quella che ha messo. Sì. Ha messo dei ganci, dei gampini. Poi ha spesso incordata, incordata, la città per aver agganciata la corda. E poi ci ha fatto mettere il tappeto elastico. Ma nessuno ti crede. Il tappeto elastico sotto per non può manciarsi. È una casa di cui in realtà noi non sappiamo... Di campagna comunque. Niente. Niente. Ci ha vissuto una famiglia contadina abbastanza nota della zona, però al di là di questo non ci sono notizie rilevanti, né sulla casa né sui proprietari, però era bella, ci è piaciuta. Quindi noi vi salutiamo, se vi è piaciuto il video mettete like e seguiteci per la prossima scelazione. Ok, ciao! Grazie a tutti!